Come fosse ieri la stessa intensità, lo stesso dolore rimasti mutati nonostante da quel maledetto 22 agosto del 2009 siano passati oramai 13 anni. 13 anni dallo schianto dell'elicottero del Suem contro i cavi della media tensione durante una missione di ricognizione nella zona di Rio Gere dopo un violento temporale che causò una frana. Era necessario scongiurare che il fiume di fango ai detriti avesse coinvolto qualche escursionista. Quattro minuti dopo le 15 il rottore di falco urtò un cavo elettrico, si avvitò su se stesso e precipitò sul letto limaccioso del torrente. Nulla da quel giorno è stato come prima. Sembra ieri che alle 15.04 è arrivata questa notizia e qui non facciamo altro che purtroppo stringersi alle famiglie. Teniamo sempre nei nostri cuori i loro familiari e tutti quelli che in questi anni purtroppo, come ben sappiamo, sono caduti in montagna. Fabrizio Spaziani, Dario De Felip, Marco Zago, Stefano Da Forno erano i componenti dell'equipaggio dell'elicottero del Suem. L'inchiesta sull'incidente fu archiviata e da allora a gran voce si chiede che venga dato un senso alla legge regionale sugli ostacoli al volo che ormai ha dieci anni. Ad oggi purtroppo i decreti attuativi non sono stati licenziati e ci troviamo in questa cul de sac, diciamo, di questa normativa che fa fatica ad andare avanti perché bisogna allineare anche tutta Italia, non solo la regione Veneto, ad avere questa normativa. Ce l'ha già l'Alto Adige, però va fatta a livello nazionale per mettere d'accordo che tutta Italia non è possibile individuare gli aspetti comuni per tutti. In Parlamento giacciono tre progetti di legge presentati per risolvere le criticità segnalate dal soccorso alpino. L'urgenza di una norma certa non è più procrastinabile. La tecnologia aiuta e sicuramente ci aiuterà per i prossimi anni perché l'individuazione dei cavi a bassa quota c'è già della strumentazione all'avanguardia che permette l'individuazione di alcune sezioni di cavo. Però questo non deve limitare il fatto di proseguire con la norma che è stata fatta.